Io credo che questa sia una delle più grosse prese in giro dal punto di vista tecnologico da veramente molto molto tempo. Oggi parliamo di quello che io non pensavo potesse esistere, ovvero un prodotto veramente fatto male, creato appositamente per uno scopo che fa male e che fa peggio di molte altre roba che in realtà non è stata creata per quello scopo. Sì, una serie di parole tanto grandi per descrivere il Windows DevKit 2023. Salvi a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Microsoft è arrivata tardi alla festa e infatti ha deciso di iniziare a sviluppare in modo un pochettino più continuativo sistemi operativi per ARM da poco e ha da poco lanciato ovviamente il suo Windows DevKit 2023 che dovrebbe aiutare gli sviluppatori a iniziare a creare delle app o comunque del software appositamente creato per ARM che girasse anche su Windows. E qui iniziano un sacco di problemi. Inizialmente ho visto molte recensioni super mega iper strapositive di questo prodotto che ho detto ma lo sai che forse non è così male come posso pensare? Magari Microsoft ha fatto qualcosa di interessante. Allora ho detto va bene facciamo una cosa, lo prendiamo anche perché per molti questo qui veniva descritto come il Mac Mini di Microsoft quindi la risposta al Mac Mini doveva essere un prodotto che nasce per gli sviluppatori ma che in realtà poteva avere un utilizzo all around o qualcosa di effettivamente utile. Mi accingo quindi a comprare questo prodotto che in America costa 599 dollari sullo store italiano non puoi acquistarlo ma se lo acquistavi per esempio dallo store tedesco, francese o da altri store europei arrivate a pagare circa 700 euro. Ok 700 euro questa roba. Cosa c'è qui dentro? 32 GB di RAM DDR5, 512 GB di NVMe e praticamente lo Snapdragon più potente sul mercato. Ora senza entrare troppo nei dettagli della componentistica interna sappiate che effettivamente per ciò che riguarda Windows o comunque tutto ciò che non è Apple è il più potente hardware che è possibile installare su una piattaforma RM non di Apple. Parliamo di hardware di tutto rispetto, almeno dovrebbe essere. Ovviamente Windows Dev Kit vi viene fornito con Windows 11 ARM che è praticamente il sistema operativo di Microsoft fatto apposta per processori ARM. Ora se voi sapete già cosa sto per dire lasciate un like. Signori il Windows Dev Kit 2023 è una cagata pazzesca! Allora io non è che voglio essere cattivo con tale prodotto però sono costretto ad esserlo. Allora partiamo dal presupposto che questo qui è un prodotto nato per gli sviluppatori, ok? Gli sviluppatori devono avere la possibilità di poter fare determinate operazioni, non soltanto per andare a verificare e controverificare direttamente alcuni tipi di applicativi ma anche e soprattutto per avere la libertà di sperimentare qualsiasi cosa loro vogliono sperimentare. Innanzitutto questa cosa non è possibile perché praticamente il bootloader è bloccato, devi andarlo a sbloccare tramite appunto le impostazioni security e una volta sbloccato comunque l'unica cosa che puoi farci girare qui sopra è Windows 11 ARM. Quindi se tu crei un applicativo e vuoi fare un doppio check per esempio su un sistema Linux non puoi farlo. L'unico modo che c'hai è andare ad attivare il WSL quindi praticamente il sottosistema Ubuntu dentro Windows per vedere se ci gira qualcosa. È una soluzione che insomma può andare o può non andare, almeno la virtualizzazione te l'hanno lasciata, mi sembra già esagerato. I problemi principali però nascono effettivamente su quello che è l'utilizzo e l'usabilità di questo Windows DevKit perché ad esempio vi viene fornito con due porte USB-C, due porte USB-A se non sbaglio, un Ethernet da 1 gigabit quindi proprio insomma DevKit per esempio di Xbox One, neanche Xbox Series X, Xbox One c'è la 10 gigabit, questo c'ha la gigabit, questo già è molto molto interessante e poi una mini display port. La mini display port di Microsoft è la cosa peggiore che Microsoft abbia mai creato. Perché questo? Perché praticamente questa mini display port ha un protocollo che essenzialmente funziona soltanto mini display port e display port il che vuol dire che se tu vuoi provare ad adattare questa mini display port a un monitor HDMI o un monitor VGA o una qualsiasi altra cosa non puoi farlo, non è possibile farlo perché? Perché Microsoft ha bloccato il mini display port e voi direte va bene c'è l'USB-C che comunque possono essere convertiti ad HDMI e di conseguenza puoi andare ad utilizzare il monitor. c'è un problema grosso, quando tu vuoi entrare nel BIOS l'unica periferica di rete, cioè l'unica uscita a video che tu hai per andare al BIOS è quella mini display port, quindi o hai un monitor con il display port oppure tu il BIOS non lo vedi mai, è impossibile da vedere, è una cosa assurda, ho provato 5 adattatori, ho comprato adattatori, non c'è niente da fare e ovviamente l'USB-C HDMI si attivano soltanto nel momento in cui parte il sistema operativo quindi tu praticamente appena l'accendi la prima cosa che vedi è la schermaria via Windows se ci hai connesso da lì. Come il display port riesci ad avere ovviamente accesso anche un pochettino prima a queste funzionalità. Altra cosa molto importante da tenere in considerazione, tra le altre cose voi prendete sto prodotto e giustamente Windows lo dovete attivare. Allora come fate? Che voi andare su KissFun, vi prendete la key 7 euro perché tanto l'avete già pagato tanto sto dev kit, almeno la key pagatela poco che ci avete pure lo sconto che trovate in descrizione attivate la chiave, va arriva a avere email, voi la mettete dove la dovete mettere, problema risolto e almeno il problema della chiave, del watermark, quello lì almeno quello lo abbiamo risolto. Numero 1 è praticamente un surface, ok? La scherma di un surface in cui ci hanno appiccicato a determinare periferiche sta roba, insomma potrebbe andare a creare dei problemi però è fino a un certo punto quindi praticamente ci avete un surface senza lo schermo. La cosa più strana e assurda è che praticamente per chiudere il contatto dell'alimentazione utilizza l'envue. Vuol dire che se non c'è qualcosa fisicamente piazzato allo sotto l'envue non si accende. Non puoi farlo partire praticamente se non hai almeno anche un dummy a envue un dummy m2, no manco un envue, un m2 in generale perché c'è proprio anche un m2 esata e comunque si accendeva se tu non hai qualcosa infilato lì dentro lui proprio non ne vuole sapere di partire. Ovviamente qualsiasi cosa tu metti all'envue che non sia Windows lui non lo legge. Teoricamente dovresti poter fare il boot da USB tramite una sequenza di tasti o una sequenza di tasti dovresti poter fare un macello di cose in realtà non puoi fare assolutamente nulla. Il boot da USB ti serve soltanto nel caso in cui tu voglia fare la recovery del sistema. Quindi ti scarichi la recovery dal sito Microsoft, la fic sull'USB fai partire ad USB e in quel caso puoi avere praticamente questa cosa. Se tu invece vuoi far partire l'installazione di un altro sistema, ma pure un altro sistema di operativo Windows, Windows 10 ARM che ne so, o qualsiasi altra cosa, no, non puoi. Soltanto quello puoi fare, punto. E già lì sei abbastanza bloccato. Parliamo quindi della parte fondamentale poi di questo prodotto. Ora, gli sviluppatori hanno bisogno di potenza. Gli hanno comunque dato 32 GB DDR5 che sono tante, sono parecchie per qualcosa che costa 700 euro e 512 GB di NVMe, che non è neanche così male, per carità. È un NVMe che si difende decisamente bene, anche se non sbaglio un Kioxia, quindi comunque qualcosa di decente, e fin lì va. Il processore è il processore più potente Snapdragon, quindi dovrebbe poter fare diverse cose. Il problema è la totale implementazione che ha questo processore e driver e tutto quello che fa all'interno del sistema Windows 11 ARM. Ovviamente è per tutto ciò che deve fare un tablet. Quindi andare su internet, vedere questo, fare quest'altro, operazioni semplici, è in grado di farlo. Come provi a chiedergli un pochettino più di potenza, ti accorgi che c'è una problematica ben grande. Ma non è qui la cosa divertente arriverà dopo. Praticamente già soltanto andare a scompattare, ok, un file zip, che praticamente era il Phonics Test Suite, soltanto per scompattare quel file, che un PC normale ci mette un minuto, un minuto e mezzo, ok? Altri PC come quello ci hanno messo due minuti, ce ne ha messi dieci. Dieci minuti per scompattare un file zip, che per carità era pieno di file piccolissimi dentro, però già questo vi fa capire che c'è una grossa problematica. La scheda video dovrebbe produrre diverse cose interessanti, ma al momento non produce assolutamente niente, perché il driver fa veramente schifo. E soprattutto la parte principale dovrebbe essere quella sorta di neural engine che è già messo all'interno del COC, ma che a conti fatti non neura, cioè nel senso è implementato pochissimo e male e nella maggior parte dei compiti dipenda praticamente inutile, ma non vi preoccupate, andiamo a vederlo nei test. Con queste premesse ovviamente abbiamo provato a farci diverse cose, ci abbiamo lavorato in live per circa due ore, smontato, fatto eccetera eccetera. Siamo potuti accorgere come effettivamente ci sia davvero molta poca cura in ciò che è stato fatto sotto tutti i punti di vista, anche l'interno è veramente poco curato, c'è una povera roba lanciata lì dentro e via. Soprattutto arrivato a un certo punto, arrivato il momento di restarlo, di vedere se si riuscisse a fare qualcosa. Ora non è un sistema che nasce per giocare, non è un sistema che nasce per fare video editing o altro, è un sistema che nasce per gli sviluppatori. Di conseguenza io l'ho messo sotto carico e giustamente con questi prezzi, con queste caratteristiche, con cosa puoi andarlo a confrontare? Ovviamente col Mac Mini. Ma son voluto essere buono, son voluto essere buono. Perché? Perché sappiate che questo qui costa 700 euro. Un Mac Mini M2 con tutti i suoi problemi, sull'NVMe, 8 GB di RAM eccetera, costa circa 20 euro in più. Quindi insomma a conti fatti abbiamo un sistema che ha 4 volte la RAM di quello, il doppio dell'NVMe anche di qualità maggiore, non dovremmo avere problemi. Sì il processore sarà un pochettino. Partendo dal presupposto che fare i test, ok, su Windows è un pochettino più complicato rispetto a farli anche su Apple perché partono molte meno cose e ne avessero dato più roba. Ho proprio soltanto fatto la base del test per farvi comprendere delle altre cose. La cosa divertente è questa qui che io ovviamente ho voluto testare. L'M1, l'M1 Bare Metal, ok, quindi l'M1. L'M1 che virtualizza Windows 11 ARM via Parallels e ovviamente il Windows Dev Kit. Il risultato è terribile ragazzi, è terribile. Parliamo dell'M1 che costa 677 euro al momento, 675 quindi meno di questo, ok. E come potete vedere, se vediamo già prendiamo BlockBench, l'M1 virtualizzato su Parallels che già va molto più lento dell'M1 Bare Metal, fa comunque di più del Windows Dev Kit. Nel BlockBench nel formato Write va lo stesso. Il CompileBench su Windows non lo fanno. Xonotic che va a valutare un pochettino, posso dire, le caratteristiche della scheda video è un dramma, quindi praticamente anche... E la GPU, vi ricordo, non serve soltanto per giocare, può anche andare a fare altri tipi di compiti. Quindi il fatto di vedere qualcosa che vada così male, qua addirittura l'M1 Parallels va meglio dell'M1 Bare Metal. Beh, Windows da certi punti di vista dovrebbe avere qualcosa in più. Però ovviamente vi ho detto che l'implementazione di quel driver per l'interno di Windows fa schifo, fa veramente schifo. Per quanto riguarda invece altri tipi di simulazione, vedete, anche in questo caso, male, male, male. Per quanto riguarda l'image encode riesce a stare avanti all'M1 Parallels, ma non all'M1 Bare Metal. E qui ci va molto vicino, però adesso vi svelerò un segreto dell'M1 Parallels, ok. In questo test praticamente sicuramente anche si fa battere di pochissimo, il Force Zone è un test compatazionale su numeri interi, quindi insomma comunque qualcosa che effettivamente, qualcosa da sviluppatore dovrebbe anche andare a fare. Per quanto riguarda la compressione ne abbiamo già parlato, nonostante questo, vedete, comunque riesce a fare peggio, ma in realtà perché questi test sull'M1 Parallels, questi di LZ4 mi sono crashati, ecco perché vedete questi risultati. Se non mi fosse crashato probabilmente sarebbe andato meglio. Non ho avuto voglia di rifarli perché tanto è inutile. Su Symark si difende, ok. Sul libro si difende, però guardate la differenza, ok. Questo è 7 e questo è 5, praticamente come parametro. Ragazzi tenete bene in mente queste cose. O Spray ovviamente non l'ha fatto perché non l'avevo installato. Embry che è retracing, anche qui le prende dall'M1 Bare Metal e sull'Intel Open Origin Noise le prende anche dal Parallels. Su Luxe Core Render riesce a recuperare qualcosina, anche in questo caso, anche in questo caso. ASM Fish qua penso mi sia crashato l'M1 Parallels che doveva essere, doveva, l'M1 Parallels dovrebbe avere un'implementazione di molto cosa però per me c'è ancora la lavorazione, cioè vanno installate molte cose perché tra l'altro ho utilizzato l'AISO che ti fornisce direttamente Parallels. Probabilmente con una ISO fatta, cioè presa e messa da parte sarebbe stato meglio. Però ho detto volevo far velocemente anche perché poi vi svelo un segreto. E per quanto riguarda si reia anche qui, insomma va vicino, in compressione la stessa cosa. Il FLAC, ok, l'audio encoding, è uno di quei test dove riesce a fare meglio dell'M1 ma poi si fa fregare dall'M1 Parallels, quindi insomma divertentissimo anche sta cosa. E per finire anche nel Sudocat che praticamente sembra intelligenza artificiale. Capite bene che il Windows Death Kit si trova in una condizione in cui è sempre più scarso l'M1, praticamente non c'è una sola volta che lo batte, forse una volta lo batte su 67 test, 70 una volta l'ha battuto e alcune volte fa avanti e dietro con l'M1 Parallels. Ma c'è un grosso ma su quell'M1 Parallels. L'M1 Parallels, quindi praticamente l'M1 virtualizzato tramite Parallels, sta utilizzando non 8C più core, ma 4C più core e 6GB di RAM. Non neanche 8GB di RAM. Quindi praticamente sto utilizzando la metà di un M1 virtualizzato che comunque arriva a battere il Windows Death Kit Bear Metal. Ora, se io dovessi essere uno sviluppatore, ok? Perché? Perché dovrei acquistare questo oggetto? Perché? Perché dovrei? Cosa dovrei farci? Mi spiegate io perché dovrei spendere 700? Cioè già non solo io ti sto sviluppando qualcosa per te, ma ti devo anche pagare perché lo voglio fare, va bene. Ma cosa mi blocca dal comprare un M1 rispetto a questo? Tra le altre cose, non è molto più piccolo dell'M1 e soprattutto l'M1 c'ha già l'alimentazione integrata. Qui devi portare un bricchetto che da solo è grosso quando tutto il Windows Death Kit, questo project Volterra, è qualcosa di dannatamente inefficiente per lavorare, dannatamente inefficiente oppure dannatamente, non lo so, pessimo nel rapporto prezzo-prestazioni e nel rapporto prezzo-qualsiasi altra cosa. È un prodotto totalmente pensato male e io non riesco a capire perché a questo punto uno sviluppatore non dovrebbe semplicemente andare a prendersi un M1 qualsiasi, pure un MacBook Air M1, paghi 800 euro, c'ha pure lo schermo, ti crepi su 13 pollici, non ci lavorerei mai su 13 pollici ma a quel punto veramente lo chiudi, lo attacchi al monitor e te lo porti dietro quando sei in treno, c'è pure la batteria che ti dura parecchio. Cosa ci devo fare? Perché Microsoft vuole vendere questo prodotto? Poi tra l'altro questa cosa, cioè creare un prodotto che sia appetibile per gli sviluppatori è prima di tutto una priorità per Microsoft perché sono loro che stanno indietro dal punto di vista RM. Apple gli sta facendo un mazzo grande quanto il colosseo da quel punto di vista. È terribile la differenza che c'è tra un sistema Microsoft RM e quella Apple RM. È vero che loro hanno l'M1 che sono l'autofattivo eccetera eccetera ma loro non stanno facendo niente e soprattutto se vogliono recuperare via software, via ottimizzazione, via sviluppo non possono mettere questa strumentazione a questo prezzo in mano agli sviluppatori. È un gap che non chiuderanno mai. Non so neanche se sono interessati a chiuderlo ma se veramente il mondo si sviluppa verso questo lato e effettivamente ci stiamo andando verso questa tipologia di sviluppo essenzialmente buttare roba a casaccio e sperare che vada bene. Sperare che le persone inizino a sviluppare su questo sistema semplicemente perché è Windows. Ma al momento se prima almeno c'avevi il fatto che potevi pagare di meno per avere anche forse meno prestazioni, ora invece ti ritrovi a pagare uguale e averne decisamente meno prestazioni dove c'è un ritardo non solo dal punto di vista hardware ma anche software. Quindi praticamente è una situazione da non prendere mai in considerazione. Ragazzi non prendete questi prodotti perché altrimenti diventa un macello. Detto questo ragazzi fatemi sapere veramente voi cosa ne pensate di un prodotto del genere, fatemi sapere perché Microsoft intende fare questa tipo di politica che è essenzialmente sbagliata. Lasciate un mi piace, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!